Ah, chiedo scusa, dai. Ok, allora, la scrivente consigliere comunale Vittoria Di Biase propone al Consiglio Comunale l'approvazione della seguente mozione. Il Consiglio Comunale, considerato che recentemente è stata inserita ed approvata nella legge di bilancio statale 2022 la riduzione dell'IVA sugli assorbenti dal 22 al 10%, ritenendo che ciò sia certamente segno di sensibilità nei confronti del mondo femminile, ma non sufficiente al commare il gap di genere che grava i suoi redditi delle donne e delle loro famiglie per l'acquisto di questo prodotto di assoluta necessità, preso atto che le statistiche ufficiali rilevano che le donne in età fertile nel nostro comune sono circa 3.900 e che il consumo di assorbenti si aggira intorno alle 10 confezioni annue per un prezzo unitario di 4 euro, valutando che un'ulteriore riduzione dell'IVA su questi beni di consumo al 4% implicherebbe una spesa non eccessiva per le casse comunali, poco più di 9.000 euro annui, e che così facendo il nostro comune acquisirebbe anche un merito indiscusso ed un esempio da emulare per altri comuni della zona. Invita il sindaco e i competenti assessori a prendere contatto con i principali venditori locali di tale prodotto al fine di stipulare un'apposita convenzione in cui si pattuisca che il comune si faccia carico del rimborso del residuo 6% di IVA di cui i venditori aderenti abbiano ulteriormente abbassato l'IVA di legge prevista al 10. Questo è quanto. È un invito ad avere un'attenzione particolare per il genere femminile. Grazie per la lettura della mozione, se c'è qualche intervento. Sì, volevo soltanto precisare che voterò sicuramente a favore e che condivido anche, sapevo che altri comuni avessero già portato avanti questa iniziativa e condivido anche il fatto che possiamo ergerci un po' anche a promotori di questa proposta che sicuramente andrà presa in considerazione, nel senso che è un po' un argomento tabù, non si capisce ancora per quale motivo, però il succo è molto semplice, non sono beni di lusso, per cui sono beni necessari per le donne, diciamocelo e trovo la mozione insomma più che valida. Grazie consigliere Perini, se c'è qualche intervento ancora. Consigliere Mantovani. Buonasera consigliere Mantovani. Io intervengo perché è un argomento che mi tocca particolarmente, particolarmente anche proprio intanto come donna, effettivamente, ma poi anche per, di fatto, per la professione che svolgo. E leggendo la mozione che è stata presentata, mi è venuta in mente una citazione di un filosofo che è stato anche altro, che diceva che la strada per l'inferno era stricata di buone intenzioni. E perché mi è venuta in mente questa citazione? Perché è senz'altro una buona intenzione, cioè non è niente di diverso da questo, perché è votata ad abbassare notevolmente ancora quella che è la difficoltà di sopportare un costo mensile, dovuto, mensile vabbè dipende dal tipo di strumento che si usa per carità, però comunque dovuto per la cura e il benessere del ciclo mestruale. E quindi è una buona intenzione. Però di fatto, in realtà, se applicata così come scritta, si ottenerà spesso così come scritta, va a creare differenze non solo all'interno del genere stesso, quindi tra donne, ma anche a scapito delle pari opportunità, che non si limitano al genere maschio o femmina o comunque donna rispetto a. Vi spiego meglio. Di fatto, tra donne, perché qua si legge, preso atto, che le statistiche ufficiali rilevano che le donne in età fertile nel nostro comune sono circa 3.900, e poi dice, ok, il prezzo unitario, ma ad un certo punto, si dice, il comune di Nogara, con 9.000 euro anno e circa, avrebbe una spesa anche contenuta per riuscire ad abbassare ulteriormente l'IVA. Però questo significa che io devo intervenire come comune per pagare per donne di Nogara. Donne di Nogara. Questo è sicuramente un dato reale, però è sicuramente un dato reale basato su chi è rilevabile sul territorio a livello ufficiale. Vi garantisco che tante donne qua a Nogara o non sono regolari per diversi motivi, oppure si trovano in una situazione di passaggio, a volte anche per gravi motivi, quindi non hanno né un'ospitalità né una residenza. E questo diventa complicato da gestire, cioè si presentano agli esercenti dicendo, sì, ok, sono una donna, però io stanzio una somma di denaro quantificata su un numero di donne che non è reale, purtroppo. È impossibile che lo sia, perché tante non sono rilevabili. In più, è chiaro che poi qua dite si può diventare faro per altri comuni, però lo dite, cioè ci diventiamo dopo. Quindi io faccio discriminazione anche tra donne che abitano nel paese vicino. Quindi vanno in farmacia, anche no. Diversamente invece è il discorso delle pari opportunità. Ci sono strumenti esattamente essenziali come gli assorbenti o gli strumenti per la cura del benessere femminile, che sono necessari come per i neonati, i pannolini, e sono necessari anche per adulti, disabili, non o magari anziani o anche nessuna delle due categorie, ma comunque con delle difficoltà che al momento non hanno lo stesso tipo di agevolazione. O meglio, se parliamo di palloni degli adulti, per il 4% esiste, ma a fronte della dimostrazione, meno in Veneto, di specificità, difficoltà, patologie, certificati medici, invalidità civile, eccetera. Quindi dove poi l'ente pubblico fornisce i pannoloni, ma vi garantiscono ogni misura sufficiente per garantire un'igiene personale quotidiana adeguata. E quindi molte famiglie sono costrette a recuperarne comunque in quello che è l'esercizio comune, che sia il supermercato piuttosto che la farmacia. Diverso ancora per i neonati. Non vedo lo stesso tipo di agevolazione al 4%. Quindi chiedere ad un comune, ripeto, buonissima intenzione, però già sono al 10% che lo Stato finalmente, qua siamo tutti d'accordo, hanno dato questo segnale che non è un bene di lusso. Però impegnare ulteriormente un comune a livello economico per abbassare ulteriormente quando ci sono altre categorie che dovrebbero essere supportate in questo senso, mi sembra sì una buona intenzione, ma ripeto che porta all'inferno. Cioè che comunque poi alla fine si va a supportare una minima parte delle problematiche e che poi di fatto allora mi troverai a dover fare una stessa identica cosa e per i neonati e per... quando in realtà con, ripeto, per come è scritta, con un approccio diverso sarebbero possibili più cose. Grazie, prego. Allora, che dire, io dico che se si vuole fare la rivoluzione non si comincia mai, perché o tutto o niente? Eh no. Io sono una riformista, sono radicale ma riformista, io vado step to step, passo dopo passo. Allora, cominciamo con le donne, anche sai perché dalle donne abbiamo cominciato? Abbiamo cominciato dalle donne perché l'IVA sui rasoi maschili è al 4-5%, allora vorremmo, allora abbiamo fatto anche per gli uomini, abbiamo fatto... cosa abbiamo fatto? Cioè, per l'uomo farsi la barba è una necessità, per la donna comprare gli asserventi è un lusso? Allora, io questo è un modo molto retorico, mi dispiace, sei bravissima, ma è un modo molto retorico per aggirare l'ostacolo, perché dal mio punto di vista le persone di buona volontà cosa fanno? Cominciano a fare qualcosa. Non ho mica detto che non dobbiamo lavorare sui pannoloni, ci abbiamo pensato, però non avevamo i dati per lavorare sui pannoloni dei bambini, allora intanto cominciamo con le donne e l'IVA la portiamo al 4, come per i rasoi maschili che è al 4%, e così eliminiamo questa... diamo un segnale alle donne di Nogara, ok? Dopo, per quanto riguarda i bambini, sì certo, ci abbiamo pensato, possiamo addirittura insieme e vedere come fare per reperire dei fondi e per attivarci anche per questo, ci avevamo pensato, l'abbiamo solo rimandato per non chiedere troppo, voglio dire, una spesa economica al comune esagerata. Per quanto riguarda dopo i disabili e le persone anziane, io ho una mamma che è anziana, e i pannoloni, se tu sei incontinente, te li passa l'usl, te ne dà tanti, quindi non è vero che vado a fare discriminazioni con le persone anziane, perché viene l'urologo, ti visita e ti dice, ti certifica che tu hai necessità e ti mandano a casa gli assorbenti per le persone incontinenti, quindi lasciamo stare gli anziani, i disabili che hanno dei diritti che per fortuna nel nostro stato sociale ci sono ancora. Per i bambini è vero, bisogna fare qualcosa, ma lo possiamo fare, cominciamo da questo, questo sarebbe un bel segnale, cominciamo da questo, perché a me se questo voler fare sempre le rivoluzioni o tutto niente, a me non piace, io comincio da poco, cominciamo dai 9.000 euro. Se vi sembra che mettere in moto tutto questo marchigegno sia addirittura assurdo, ma noi la possiamo anche portare allo 0%, facciamo, io faccio un emendamento, l'ho scritto poco prima di venire qua, faccio un emendamento e in caso di riduzione dell'IVA completamente alle donne, spenderemo, non è che spenderemo molto. Allora voglio dire, e qui mi taccio, che dal mio punto di vista è un bel segnale da un consiglio comunale che è fatto soprattutto da donne, ce lo siamo detti il primo giorno, il primo giorno quando si è insiedato in questo consiglio comunale, cosa abbiamo detto? Speriamo che la parte femminile di questo consiglio porti avanti insieme dei segnali per le donne, per recuperare questo gap. Io mi aspetto questo, per carità, dopo ognuno liberamente fa quello che crede. dal mio punto di vista si può cominciare da questo e poi mano a mano si penserà, lo potete fare anche voi se volete, vi attivate e fate una vostra delibera in cui, oppure lo facciamo insieme, come volete, noi ci avevamo già pensato ai pannolini per bambini, solo non siamo riusciti a vedere quanti cose, ok. Quindi la mia proposta è di cominciare, in quanto siamo un consiglio molto al femminile e non sarebbe un bel segnale, secondo me. Piano piano poi possiamo fare la rivoluzione, si fa, la guerra si vince, battaglia su battaglia, non è che tutti insieme si va al fronte, battaglia su battaglia, riforma su riforma, eliminiamo questi gap generazionali, tra donne, generazionali e di genere. Mantovani, è rispettabilissimo, ma sono due idee con il diametramente opposto, cioè non è che, ripeto, per come è scritta, cioè non è che la mia è una posizione perché allora sono donna e non sono d'accordo, allora non va bene, cioè ritengo che le cose possano essere fatte senza continuare a sottolineare. Se poi le guerre vanno vinte con le battaglie e quant'altro, di battaglie ne possiamo fare tante anche mettendo insieme più cose, cioè è esattamente per come è scritta. Dopo, ripeto, sono d'accordissimo, cioè l'input c'è stato, c'è, non credo sia esaustivo l'intervento dello Stato, si deve fare di meglio, è certo, ma continuando a fare micro battaglie una in fianco all'altra, una alla volta, cioè non si otterrà mai una pari opportunità. Quindi è proprio un pensiero, purtroppo mi spiace, però politico che è diverso proprio da quello che ha appena esposto, perché dal mio punto di vista fare micro battaglie per tutti i diritti rispettabilissimi, ripeto, non può, cioè consumo di energie, attivazione e che poi è poco comprensibile anche da chi riceve questi diritti, perché di fatto, comunque, nello specifico, andiamo solo a Dino Gara, cioè una che mi abita a Sanguinetto, si ferma in farmacia a Nogara e dice no, perché non sei Dino Gara, cioè vado a creare battaglie tra donne, tra battaglie, capiamoci, non penso che si prendano per i capelli su questo, però è poi di difficile comprensione alle micro battaglie da portare avanti soprattutto su fattispecie così puntuali. Quindi la visione più globale, non sto dicendo che bisogna portare avanti una guerra mondiale rispetto a tutto facendo un calderone, però si può dare un'impronta che vale per più categorie e che è funzionale per più categorie con energia, con impegno, che è comunque una battaglia. Allora, chiedo però una domanda e poi chiudo e dopo andiamo tranquillamente che voglio intervenire e andiamo a votare. Visto che è arrivata questa proposta e così come è scritta, non la condividevi, ma nello spirito tu dici che in fondo è una battaglia, deve essere più globale, come mai non hai preparato anche tu puoi preparare una mozione o una delibera in cui fai una battaglia globale per non fare e quindi superavi la mia angusta visione. Non l'hai fatto, allora vuol dire che non c'è volontà politica. Se non hai volontà politica non puoi arrampicarti sugli specchi e dire che io non faccio sta battaglia perché vado a fare delle differenze, perché questo è stato fatto in un sacco di comuni. Se voi te li cito, è stata fatta in un sacco di comuni e sono state votate dalla maggioranza. Quando l'ha presentata la maggioranza non hanno votato maggioranza e minoranza. Quando l'ha presentata la minoranza l'ha votata la maggioranza perché qui non si tratta di fare i primi della classe. Allora tutti gli altri comuni hanno fatto un'ingiustizia. Addirittura gli altri comuni l'hanno portata al 4% l'IVA quando era ancora il 22% perché l'hanno voluta equiparare all'IVA sui rasoi maschili. Tutto qua. Ok? Basta. Altri interventi? No, una considerazione. La buona intenzione sicuramente c'è, si vede. Concordo pienamente però con quello che ha detto il consigliere Mantovani. Cioè andrebbe a creare una discriminazione anche tra donne che ad esempio viene in mente una che sta in località Paglia di Nogara che si sente nogarese va in farmacia Caselle e deve pagare due euro in più lo stesso pacco di assorbenti. Mi sembra una cosa anche un po' antipatica. Allora diciamo una cosa siamo tutti d'accordo che questi sono beni di prima necessità? Sì, siamo tutti d'accordo. Siamo tutti d'accordo che dovrebbe essere il governo il Parlamento la prossima finanziaria ad abbassarla al 4%? Assolutamente sì. Su questo siamo d'accordissimo ma non solo sui pannolini per le donne ma anche per i pannoloni e per i pannolini dei bambini per tutti perché sono tutti strumenti di prima necessità per chi deve utilizzarli assolutamente senza nessun dubbio. Quindi è questo il punto lo Stato deve farsi carico visto che magari non è neanche una spesa esagerata mettiamo ai termini di gettito di IVA di questo abbassamento sul quale penso che siamo tutti d'accordo qua dentro su questo aspetto che si faccia carico il comune con una discriminazione interna tra comuni limitrofi e con anche secondo me una difficoltà oggettiva operativa e dopo io non lo so perché sinceramente non ho approfondito tanto la questione ma dopo andare a individuare chi ha la residenza Nogara chi magari è non so l'insegnante che viene dalla Sicilia ma è qua temporaneamente per sei mesi a fare una supplenza allora quella no perché non è residente è domiciliata giusto? Ora lei no lei li paga il massimo la collega insegnante che è residente a Nogara invece li paga il 4% cioè diventa anche difficile è un po' bizantina la cosa sinceramente quindi dal mio punto di vista mi sento assolutamente di appoggiare quello che ha detto il consigliere Mantovani come vi dico non per l'intenzione che è sicuramente molto positiva e che io mi auguro e spero che il governo con la prossima finanziaria ci pensi e li abbassi al 4% assolutamente prego consigliere Giada ho anche un po' l'impressione che vi stiate arrampicando sugli specchi anche perché questa discriminazione di cui parlava la consigliera Mantovani si può superare facendo un accordo fra comuni pensando diciamo a parlare con gli altri comuni per cui niente il mio votore sarà favorevole prego consigliere Emanuele sì no noi saremo favorevoli a quanto ha proposto Vittoria perché abbiamo un'utopia che è questa la butto un po' sul reader che gli altri comuni dicano però vedi il comune di Nogara come è stato bravo così lo facciamo anche noi il discorso che dicevi tu Marco prima all'inizio del consiglio comunale abbiamo parlato di una cosa brutta la guerra in Ucraina che è là quindi noi come consiglio non è che possiamo fare più di tanto e su questa cioè dobbiamo aspettare che intervenga il governo io no io l'appoggio e quindi voteremo favorevolmente è di difficile realizzazione rispetto all'altra l'altra è un qualcosa un messaggio che mandi al governo qua è un qualcosa che si riversa da subito sul territorio di difficile gestione secondo me ecco perché veramente per i discorsi che si è fatto prima rischi di dire Nogara sì te no allora possiamo anche cambiarla cercando di fare preghiera al governo di prendere mettere mano questa cosa che sarebbe la cosa più giusta secondo me io credo che i cittadini che hanno votato questa maggioranza e anche i pochi voti che abbiamo avuto noi consiglieri di minoranza non hanno più fiducia nei partiti non hanno più fiducia nel anche nel governo dato il pessimo esempio che c'è stato quando bisognava eleggere il nostro presidente penso quando vanno a votare non conoscono neanche più non sapremo che tipo di legge elettorale avremo non conoscono neanche più i loro parlamentari che rappresentano non vanno più a votare nel nostro comune abbiamo il 36% di cittadini che non viene a votare secondo me gli unici gli unici che sono veramente vicino ai cittadini sono i sindaci e gli amministratori di maggioranza e di minoranza quelli loro sono i modelli di riferimento perché loro se hanno dei problemi vanno da sindaco vanno dall'assessore di competenza quindi dire bene che il comune lo faccia vuol dire dire campo a cavallo speriamo che il comune lo fa gli altri comuni hanno avuto questo coraggio come voi avete avuto il coraggio di illuminare sperando che quell'illuminare con la bandiera dell'Ucraina il non è che avete fatto allora lì siete stati avete voluto fare i primi della classe perché ha voluto non avete non vi siete messi in contatto con i comuni avete detto facciamo questa cosa insieme sì abbiamo fatto allora bisogna allora voglio dire voglio dire voglio dire questo voglio dire questo che rispetto a questa cosa demandarla delegarla al al governo significa tradire le aspettative delle donne che hanno votato voi e hanno votato noi quei pochi che hanno votato noi perché noi siamo i più vicini a loro e noi dobbiamo cercare di risolvere i loro problemi noi possiamo fare questo e sicuramente dopo si può contattare e sono sicura che gli altri comuni sicuramente prenderanno a modello i cittadini andranno a dire ma forse se l'ha fatto Nogala allora scusate è venuto un articolo sull'arena dove c'è scritto tre comuni hanno zerato l'IRPEF alle fasce con il reddito basso e loro hanno fatto differenza a quei comuni cioè non ho capito quei comuni hanno fatto discriminazione con i comuni dei cittadini di Nogara ma no perché ogni comune è autonomo perbacco l'elezione del sindaco diretto che a cosa significa significa che io cittadino voto te perché ti hanno dato tutti i voti perché hanno fiducia in te ma questa fiducia bisogna non tradirla farli sentire vicino non si può dire io non lo faccio adesso perché sennò discriminano le donne di Sorgà a me io non sono stata votata dalle donne di Sorgà ci penserà il sindaco di Sorgà a fare quello che deve fare se ha voglia di farlo io non mi posso dedicare a voto di difficile realizzazione perché traduire il fare allora se invece mi dici o mi dite è un po' un'organizzazione un po' macchinosa macchinosa allora si può fare una cosa semplicissima io propongo emendamento alla mozione che io stesso ho presentato sugli assorbenti femminili oggi 28 a 8 si propone la totale abolizione dell'IVA sugli assorbenti femminili il costo dell'IVA sarà più o meno 9,5 quindi togliendo l'IVA non avete nessun problema semplificate tutto perché non c'è una mia capia è uguale bisogna di identificazione guarda che noi con col fami soltanto per non dire nomi con il supermercato abbiamo parecchi problemi abbiamo avuto problemi anche con le schedine per i buoni pasto l'anno scorso voi rispetto a cosa avete fatto avete stanziato anche perché il governo vi ha stanziato 90.000 euro più 110 credo circa euro li avete stanziati voi per non fare aumentare molto la tariffa dell'IVA giusto? chiedo scusa dei tassi ai tari ok bene allora cosa avete fatto voi? mica l'hanno fatto tutti quanti i comuni voi l'avete fatto perché avevate un avanzo allora avete fatto discriminazione no perché voi Nogara ha il suo sindaco i suoi cittadini e dà conto ai suoi cittadini e utilizza il suo avanzo come meglio crede allora non si fa discriminazione facendo qualcosa in più si dà un segnale ai cittadini se poi voi mi dite che questa cosa non si può fare perché macchinosa dovete avere l'onestà di dirla non girare attorno no no l'abbiamo detta cioè te lo sto dire no come no beh allora non lo facciamo anche perché è macchinosa ok adesso che l'ho detto sono a posto vuol dire che non la si potrebbe fare uno sforzo per le cittadini se vieni qua qualche giorno che visto che dici che hai qualche po' di tempo te vieni qua con me a vedere sul sociale guarda adesso non c'è Filippo mi sembra però che difficoltà che abbiamo delle volte anche per ti ricordi proprio l'hai tirato in ballo te il discorso del covid il discorso che aveva maggiolazioni anche per dare quei pacchi o quelli alimentari che uno poteva andare a prendere al supermercato con la schedina ok andava al supermercato con la schedina e abbiamo detto una cosa semplice allora abbiamo sentito i supermercati non se li accettavano cioè veramente a volte ti sembra facile ok allora Flavio siccome sono una persona intellettualmente onesta però uno non si deve arrampicare su dispi non mi arrampico per niente non ti sto dicendo tu però che uno mi fa tutta la retorica che voglio fare differenze che non voglio fare differenze non è quello il problema è solo uno il problema è che per voi è troppo macchinoso e probabilmente la macchina amministrativa in questo momento non riesce a portare avanti questa iniziativa io questo lo posso accettare lo posso capire no l'ha detto Marco Marco è forse un'idea cioè io guardo il pratico e il pratico ci creerebbe dei problemi ma perché è macchinosa ok ognuno poterà no per me ma per me ho detto è anche macchinoso ma per loro ha detto è anche macchinoso il sindaco ma è una questione di fondo molto importante e la ribadisco se vuoi la ripeto tutta anch'io ripetiamo la storia sarebbe discriminante nei confronti delle donne allora mi immagina la scena in una farmacia o da Prendolan ma cosa deve far vedere la carta di identità la donna di Nogara sono di Nogara allora pago due euro in meno quella del Sorgano le fammi a Vedal cioè ma 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 è proprio discriminante nei confronti tra le donne e poi il fatto il fatto secondo me di fare una operazione di questo tipo dovrebbe essere fatta per tutte le categorie e dal governo italiano è inutile che diciamo che il Parlamento non conosciamo più neanche quelli che ci sono a rappresentarci non è così perché lo conosciamo ok più di uno prima cosa seconda cosa seconda cosa è la competenza del governo è una questione di competenze allora è vero che hai citato la Tari ma la Tari è una tariffa dove la competenza è in primis adesso del Consorzio di Bacino non approva neanche più il Comune le tariffe ormai perché approva il Consorzio del Bacino di Verona Sud nel nostro caso ma comunque dove il Comune in quel caso lì ha potuto intervenire facendo calmerando le tariffe ok hai ricordato bene mi ha fatto anche piacere che lei ha ricordato che abbiamo messo parecchi soldi per questa cosa al di là di questo però è una competenza del Comune perché è un tributo del Comune tant'è che quando andremo a provare il bilancio potrai vedere che nell'allegato non c'è il Diva per gli assorbenti femminili oppure per i pannolini oppure per altre cose oppure per i rasoi per i uomini ok però c'è la Tari c'è l'Irpef c'è l'Imu anche quelle di fatti si possono modificare è una tassa comunque comunale o comunque della sfera comunale diciamo l'Iva per i pannolini i pannoloni i rasoi è una competenza statale e quindi è lo Stato che si deve prendere l'onere sia economico che politico allora noi possiamo dirlo qua dentro siamo d'accordo io sono il primo ad essere d'accordo che tutti i pannolini i pannoloni di tutte le categorie uomini donne uomini anziani chiaramente o bambini e le donne devono essere abbassate al 4% sono d'accordissimo va bene d'accordissimo sono stato felice quando il governo ha dato un primo segnale questa è la mia opinione ma infatti può essere diversa quella di Beatrice ma no con questi strumenti e non in questo modo soprattutto Beatrice ripetiamo l'opinione consigliere Mantovani perdon però devo fare una precisazione è una competenza nazionale a livello di cornice poi competenza regionale e di default poi dei comuni perché è sociale allora cioè è una fattispecie molto particolare e se andiamo poi in quelli dei neonati e in quelli degli anziani quello che dicevo prima non è tanto una questione né di macchinoso non sono d'accordo con il macchinoso non sono d'accordo si fa cioè volendo si fa e non sono d'accordo sulla questione esclusivamente nazionale deve essere anche nazionale cioè qua c'è un input non da poco e meno male se avessero fatto 4% era ancora meglio e siamo tutti d'accordo se avessero a livello nazionale già fatto tutto parimenti ancora non saremo qua cioè forse non dovremmo neanche parlarne è è una questione puramente politica di scelte di scelte di come si vogliono affrontare e risolvere i bisogni di una comunità per quanto mi riguarda e io non riesco a prescindere dall'avere un'ottica il più possibile univoca della comunità che rappresento se vogliamo parlare di voti se vogliamo parlare di essere votata anche perché mi piace pensare di essere stata votata anche da dei maschi cioè non solo dalle donne cioè non è che io rappresento solo le donne che mi hanno votato a Nogara ovviamente quindi è proprio una una volontà politica di approcciare o meno ad un bisogno della comunità questo è un bisogno che unito ad altri può avere fatti specie simili quindi adesso io prima non ho risposto alla sua domanda rispondo ora perché poi mi sono persa è vero io non ho cioè non ho non ho detto rispondo con una nozione diversa facendo una proposta diversa e non l'ho fatto perché non credo che ci sia una cioè io sono in difficoltà a doverla pensare cioè sono brava politicamente a dirvi sì facciamo ok questo è vero però poi la praticità non di questa in sé ma anche dell'approccio che suggerisco io non è così semplice quindi mi sono fermata a rispondere alla nozione ok ciò non toglie e ripeto quello che ripeto prima per com'è scritta proprio perché è da consiglio comunale cioè io non ho interesse a fare una delibera di giunta su questa cosa qua che non sia espressione di un consiglio ma non ha senso quindi se la proposta è diversa o se mi verrà in mente una proposta diversa a livello pratico realizzabile che possa portare avanti l'idea politica il pensiero politico che sta alla base di quello che ho appena detto benvenga benvenga se ne dobbiamo riparlare nuovamente perché passa una riflessione a me a noi a tutti quanti a voi per qualsiasi motivo cioè riparliamone però in questi termini e ripeto politicamente perché può essere macchinoso può essere difficile ma si fa cioè non è che non si può fare è chiaro che è una scelta politica quindi vorrei ribadire che politicamente io non credo sia perseguibile ok solo questo allora intanto è una giustamente hai detto è una scelta politica e sono d'accordo con te perché afferisce la sfera del sociale quindi non è competenza solo dello Stato è anche competenza della regione anche competenza della provincia anche competenza del comune allora il problema qual è? che una volta che è stata presentata questa mozione non è che si trasforma se noi la votiamo mettiamo facciamo l'ipotesi che non succederà la votiamo e la proviamo non è che diventa immediatamente seguibile cosa succede? succede che si poteva intanto io riconosco che il fatto di aver capito che è una scelta politica che apperisce al sociale e qui adesso cominciamo a capirci allora non c'è allora innanzitutto non sono d'accordo che è solo una scelta dello Stato perché altrimenti tutti i comuni che l'hanno fatto cos'è? sono stati assolutamente l'hanno fatto e sono in regola e non è successa nessuna rivoluzione e non c'è stato nessuno che si è lamentato perché mi sono documentata e mi sono informata allora il problema e non solo io allora il problema è un altro che probabilmente quando è arrivata questa mozione si poteva anche ecco io quello lo faccio non è che sto su Facebook continuamente però vado su internet e lo uso come strumento di conoscenza e lì ci sono tutte le modalità con cui altri comuni hanno portato la mozione l'hanno approvata e come l'hanno realizzata si tratta di una scelta politica è chiaro che uno dice certo noi la possiamo appoggiare però ci dovete dare il tempo di approfondire di vedere come realizzarla però voi siete maggioranza se volete il nostro aiuto ve lo diamo pure ok? però è una scelta politica non è né macchinosa e non c'è nessuna discriminazione in una scelta politica perché non è vero che togliere alle fasce praticamente di reddito basso togliere l'aliquota e azzerarla non è una discriminazione assolutamente perché ogni comune decide di usare le sue risorse come crede altrimenti non ci sarebbe l'elezione del sindaco diretta e quindi è una scelta politica se la condividete bene se non la condividete non c'è nessun problema prego prego Alessandro Andreoli ma tu daresti un quantitativo all'anno al giorno alla settimana da acquistare o può costarne quanti pacchi ne vuole di assorbenti per esempio perché io posso comprarne non so invece me ne serve faccio un esempio parlo da profano uno alla settimana e ne compro dieci esempio no se non danno gara posso comprarne dieci se tutti fanno così per poi magari può essere che si crei anche un piccolo mercato nero secondo me non so ti chiedo solo per capire insomma ecco il problema è si tratta di fare una scelta politica e dopo andare a documentarsi siccome può realizzare siccome sono prima dell'intervento del governo dal 22 al 10% ci sono stati un sacco di comuni che l'hanno fatto ma non solo nelle Emilia Romagna l'hanno fatto anche in Veneto comuni piccoli e comuni grandi ok allora si tratta solo di andarsi a documentare e vedere come fare perché io non credo che una donna si tratta il problema è la condividiamo la scelta politica dopo nella sua realizzazione ci andiamo a documentare e vedere i comuni più virtuosi che condividono nel loro questo significa condividiamo le pratiche virtuose di alcuni comuni e impariamo da loro questo con umiltà impariamo da chi l'ha già fatto ce ne saranno almeno 30 che l'hanno già fatto almeno ma l'hanno portata al 4% prima che il governo intervenisse perché hanno fatto una scelta politica questo dico si tratta solo di questo dopo è chiaro che non è una cosa che si realizza in un secondo ci si documenta noi contribuiamo alla documentazione oppure lo fate voi è tutto qua però bisogna fare una scelta politica non si può arretrare perché no insomma è una scelta politica potete condividerla per carità siete libri di farlo oppure no però è una scelta politica non che tocca allo Stato no tocca anche a me amministrazione del comune di Nogara fare questa scelta politica perché ho anche i soldi per farlo con tutti i soldi che mi sono avanzati voglio dire volendo non è una somma esagerata va bene basta bene allora dopo questa ampia discussione passiamo alla votazione favorevoli 4 contrari astenuti nessuno grazie a tutti grazie a tutti